Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti quest'oggi come di consueto a fare il post partita di Eintracht Napoli, giocata ieri in Champions League con tutte le pagelle per i calciatori del Napoli, Spalletti compreso. Vi chiedo scusa in primis per la mia voce, è una faccia febbricitante perché quest'influenza ha deciso di non voler andare via, ha detto che si trova molto bene, io ho fatto firmare un contrattino che tra due giorni la mandiamo via, speriamo che se ne vada perché non se ne può più. Febbre a parte, siamo sempre qui sul pezzo a parlare del grande Napoli e dell'ennesima partita giocata con una superiorità disarmante. Era una partita non semplice anche visto lo stadio, quando siamo entrati in campo ho visto uno stadio molto più caldo di quanto me lo aspettavo, quindi un contraccolpo psicologico lo si poteva avere anche per come è andato all'inizio della partita dopo che Coraschella ha sbagliato il rigore e il palo di Lozano erano occasioni che potevano scalfire la tranquillità della squadra di Spalletti che invece si è fatta scivolare addosso l'errore, il palo e quant'altro e ha dominato la partita in lungo e in largo. Comunque prima di cominciare andiamo a rivivere gli episodi della partita e vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, così restate aggiornati sui prossimi contenuti post partita, pre partita, pronostici. Siamo qui a parlare di calcio, vediamo cosa è successo ieri e poi diamo le pagelle a tutti i calciatori. Il primo quarto d'ora della partita il Napoli cercava un po' di studio, l'Aintracht ha fatto un paio di scorribbandi in avanti ma sterili e poco e niente. Meret, chiamato quasi mai in causa per tutta la partita, ha fatto una sola parata, però dopo il quarto d'ora è un Napoli che comincia a guadagnare terreno, territorialità e possesso palla. Al ventunesimo cambia la regola del vantaggio perché almeno se non è cambiata non è stata attuata ieri sera perché al ventunesimo Olivera lanciata a rete non dà il vantaggio e fischi il fallo. Va bene. Al venticinquesimo lo stesso, fischi un fallo su Osimè e Osimè se ne stava andando in porta dopo aver smarcato anche il secondo uomo. Potevi lasciar correre Osimè saltando l'ennesimo avversario, sarebbe andato in porta e la partita si sarebbe sbloccata molto prima del quarantesimo. Al trentasesimo succede che Lozano prende il palo, Osimè va a recuperare un pallone, nell'area di rigore viene scalciato dal difensore in ritardo che pensava di prendere il pallone, solo che Osimè arriva come una furia, velocissima. Sposta il pallone, prende la gamba di Osimè, calcio di rigore. Lo sbaglia con Araschelia, i rigori si sbagliano, così come si segnano si sbagliano. L'importante è non accusare il colpo. È un Napoli che si è fatto scivolare addosso questo episodio e ha continuato a macinare il gioco. Ennesima discesa di Lozano, palla al centro per Osimè e facciamo l'uno a uno. Infatti il motivo del primo tempo soprattutto è stato che il Napoli ha cominciato ad attaccare a sinistra, ha visto che Karaschelia e Zielinski comunque erano triplicati e raddoppiati sistematicamente in marcatura e c'era più spazio sulla testa per Lozano, che insieme ad Anguissa è stato ieri il migliore in campo. 1-0 e andiamo a riposo con un risultato già stretto per ciò che abbiamo creato. Nel secondo tempo c'è solo il Napoli. L'Aintracht non ha fatto un tiro in porta, uno solo, sterile, una parata centrale ma nell'unica azione offensiva perché poi non si è visto più. Si sono chiusi dietro anche dopo l'espulsione di Moani al 56esimo. 56esimo mi sembra, sì. È stato espulso Moani per un piede a martello su Anguissa legittima da regolamento. È rosso, l'arbitro era a 50 cm dall'azione. Ci ha visto giusto. È rosso diretto per l'unica punta che aveva l'Aintracht. Io in quel momento mi sono detto, ah, adesso sarà ancora più difficile fare il secondo gol perché comunque si chiuderanno a 5 dietro, così come ha fatto. Sarà più difficile scardinare la difesa. E invece il Napoli, come è stato espulso Moani, ha avuto un ennesimo busto di fiducia e ha cominciato a martellare l'avversario come si fa con un pugile tira alle corde. Azioni su azioni. Non siamo riusciti a sbloccare la partita. Lozano ha fatto un tiro centrale quando poteva passarla a centro area che eravamo liberi in tre. C'era Simen, c'era Quaraschelia libero. Però, ovviamente, la posizione da tiro c'era. Ha tirato il tiro uscito centrale e va benissimo. Spettacolo Quaraschelia al 65esimo. Al 65esimo si fa perdonare, anche se da perdonare non c'è niente. Ma se vogliamo perdonarlo per il rigore sbagliato, fa uno stop in area di rigore stile Bergkamp. Nel telecronista italiano ha parlato di Guti, però mi sembra più quello stop che Bergkamp fece con l'Arsenal quando si smarcò l'avversario. L'avrete visto in tanti e tutti online perché sono episodi che nel tempo vengono sempre proposti. Stop alla Bergkamp, un tacco dietro, felpatissimo per Di Lorenzo che arrivava, la mette sul palo lungo e chiudiamo la partita 2-0. Sul 2-0, invece di gestirla come al solito, il Napoli cerca di inferire, ovviamente, cerca di chiudere la partita consapevole di essere un uomo in più, consapevole che il momento dell'Eintracht era completamente buio. Però non riusciamo a fare il terzo goal. Ci prova anche Anguissa con un'azione da Playstation, un 1-2, entra in area, sbatte sul portiere, cade a terra e da terra con un destro che finisce a pochissimo dall'angolino lontano ed era quasi un 3-0. Poi, girandola di cambi, entra Elmas, entra Politano per Coraschelia, entrano Simeone per Simeone, Don Belè per Anguissa, non cambia la musica ed è un Eintracht che è stato chiuso nella propria area di rigore per tutto il secondo tempo. È un Napoli che in versione Champions forse ci ha messo quei dieci minuti per trovare ritmo e per inquadrare l'avversario, però poi ha dilagato, ha dato spettacolo come sempre e poi la vittoria secondo me è mentale perché l'episodio del rigore non è da sottovalutare. Tu sei al primo ottavo di Champions, ti sta andando bene la partita, tiri un calcio di rigore che la può aprire subito, lo sbagli, ci vuole anche rimanere un attimo interdetto, invece è un Napoli che non si snatura, continua a macinare il gioco, da destra a sinistra, l'obolteca che smista palloni, Anguissa che era dovunque ieri sera, come il suo solito. Abbiamo vinto la partita 2-0, il risultato ovviamente il risultato poteva essere molto più largo, poteva finire tranquillamente 5-0 perché Napoli ha creato 6 palle goal nitidissime sui 9-10 tiri nello specchio che abbiamo fatto, ma non possiamo mica piangere sul latte versato, sono due goal che fanno ben sperare per la partita di ritorno e mi allaccio alle parole di Spalletti che nel post partita ha detto c'è ancora il 50% possibile di passaggio del turno o di andare a casa, sono d'accordo con Spalletti perché due goal è vero che possono farti gestire la partita diversamente ma in Champions abbiamo visto anche in passato lo stesso Milan di Ancelotti all'epoca 4-0 mi sembra, 4-1 all'andata perse, 4-0 in ritorno. Non dobbiamo per niente sottovalutare la partita di ritorno perché l'Aintracht verrà comunque a Napoli secondo me non facendo la partita che ha fatto ieri ma cercando di recuperare questi due goal ed è lì che dobbiamo punirli ripetutamente. Comunque andiamo a fare le pagelle, partiamo da Meret, questa volta senza voto, io gliel'ho sempre dato anche se facevo una sola parata ma senza voto perché ieri non abbiamo sofferto praticamente niente, Meret senza voto. 7 e mezzo a Di Lorenzo, continuità, corsa, un grandissimo goal, te lo ritrovi molto più spesso all'interno che a scendere sulla fascia per fare il cross dove molto spesso trovi Lozano-Opolitano, grandissima partita del capitano, 7 e mezzo. 7 più a Kim, ha fatto tantissime chiusure, attentissimo, corsa, qualità, quantità, non si passa dal lato del coreano. Scusate. Rachmani, 7 più anche a Rachmani, la coppia centrale del Napoli ieri altissima, si è dovuto curare più dell'aspetto di impostazione che della fase difensiva, però abbiamo respinto tutti gli attacchi al mittente anche grazie a loro due. 7 lo diamo da Olivera, una buona partita di spinta, di qualità, anche se sulla sinistra abbiamo spinto molto poco rispetto alle altre partite perché abbiamo visto che era tutto chiuso e i pericoli sono arrivati dalla fascia di Lozano. Arriva il migliore in campo, 8 e mezzo ad Anguissà. Anguissà ieri era infermabile sui dribbling, sul recupero palla, ha recuperato palloni, copriva il pallone e se ne andava con un dribbling tra due avversari, immenso, immenso Frank che ieri è tornato, il Frank che conoscevamo dopo le ultime uscite in Serie A dove ha giocato bene però non era il Frank di ieri sera. Anguissà ieri sera indomabile. 7 anche a Lobot meglio nel secondo tempo che nel primo dove ci sono stati 3-4 errori, 3-4 massaggi sbagliati in base di impostazione perché comunque l'entractamento più fiato nel primo tempo ti ha messo in difficoltà con i centrocampisti e avevi meno spazio. 7 anche a Zielinski, una partita di tutto rispetto anche per Zielu, ha sbagliato ben poco però c'è il discorso che a sinistra siamo stati meno prolifici che a destra. 7 e mezzo a Lozano e un bel 7 pure a Elmas che è entrato al posto di Lozano. Lozano ha fatto un partitone soprattutto in fase in fase offensiva dove era indomabile dribbling a saltare l'avversario sempre riusciti qualche cross è andato bene qualche altro cross era più corto però comunque quando vai a crossare se ci arrivi troppo scarico perché hai tanta corsa ti fai sempre 50-60 metri avanti indietro avanti indietro ci sta che arrivi a qualche cross poco lucido. Assista al bacio per l'1-0 di Osimè e 7 e mezzo a Lozano. 7 a Elmas che mi è piaciuto soprattutto quando è uscito Guara ed è stato spostato a sinistra. Dribblica a saltare l'avversario ha tentato il gollo in un paio di volte ha tirato in porta è un diamante che è smocciato Elmas la conferma che abbiamo una panchina di tutto rispetto. 7 e mezzo a Osimè sblocca la partita sempre lui, ennesimo gol, ennesima partita di fila, opportunismo da vendere e attaccante che fa reparto da solo l'abbiamo già detto e diventeremo ripetitivi se si continua così. 7 e mezzo a Osimè. Senza avuto Simeone perché è entrato tardi così come Don Belè al posto di Anguissà. Diamo un 6 e mezzo a Poletano per qualche discesa perché ha avuto un po più tempo, ha saltato l'uomo e si è fatto vedere. Comunque quando è entrato in campo ha fatto un'ottima partita. E diamo un 7 e mezzo a Quaraschelia perché l'assist del 2 a 0 è una magia che solo i funamboli riescono a fare. Fai quello stop, ti fai passare la palla tra le gambe e fai quel tacco dietro che poi non è nemmeno un tacco pieno, è di esterno. Tacco esterno per di Lorenzo che sta arrivando. Sei veramente un campione. Quindi gli diamo 7 e mezzo nonostante si sia mangiato un gol nel secondo tempo e eravamo ancora sull'1 a 0 e abbiamo sbagliato il rigore. Però poi mi fai questa magia e ti fai perdonare di tutti gli errori che hai fatto fino a quel momento. Diamo un 8 a Spalletti, scusatemi ancora. Diamo un 8 a Spalletti perché l'ha preparata molto bene a livello psicologico. Ha tenuto il profilo del Napoli molto più basso di quanto già sta facendo finora. Siamo andati in conferenza stampa a osannare l'Eintracht invece di puntare sulle nostre qualità e credere sulle nostre qualità che già sappiamo. Quindi senza smascherare le nostre qualità e il gioco che volevamo fare, che già si sapeva, ma tenendo l'avversario osannato e con un Napoli sempre sul filo del rasoio, tenendo i calciatori comunque sempre sul pezzo. E ragazzi questa è una cosa complicata da fare. Soprattutto quando hai un filotto, non è un filotto. Quando hai una stagione intera di risultati positivi, è difficile mantenere la squadra sempre sul pezzo, tenere la squadra calmando gli entusiasmi subito dopo la partita. Perché sì, ci sta da festeggiare, però noi festeggeremo obiettivi conquistati. E Spalletti sta facendo un lavoro enorme da questo punto di vista. E altrettanto dal punto di vista tattico, tecnico, fisico pure, perché comunque gli infortuni ci sono, ma sono stati pochi durante l'anno. Comunque è un grandissimo lavoro da Spalletti, società, staff medico, massaggiatori, eccetera eccetera. Voglio dare un 6- all'arbitro soprattutto per quelle due regole del vantaggio e per qualche situazione che avrebbe potuto gestire un po' meglio a livello di cartellini e a livello di... diciamo che il cartellino, sì, il cartellino a Kim, non a Kim, scusate, l'ammunizione data al Napoli ci sta pure. Però hai comunque arbitrato in una maniera che secondo me non è all'altezza di un ottavo di finale. Però detto questo, non siamo qui a rimurginare sulle decisioni arbitrali, sul giallo dato a Napoli e quant'altro. Il Napoli ha fatto una grandissima partita, risultato strettissimo, perché poteva finire 5-0, così come è finita con l'Ajax all'arena, così come i quattro palloni che ha preso in Liverpool. Ne ha presi pure cinque ieri in Liverpool, incredibile, in Liverpool e Real Madrid. Ma ne parleremo al limite in un altro video. Iscrivetevi al canale, ragazzi, sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo prepartita o postpartita pagelle nel prossimo contenuto. Dai! Ciao e sempre Forza Napoli!